Il tuo primo match di Serie A è sempre speciale e questo sentimento è moltiplicato se avversi. E come se avversi dopo solo 4 minuti? Empoli's Filippo Bandinelli ha fatto solo questo contro Lazio l'August 21. È stata una giornata sicuramente indimenticabile perché è il sogno di ogni bambino arrivare a calcare questi campi contro avversari fortissimi. E poi ho avuto la fortuna di fare gol due mesi prima di diventare papà quindi sono riuscito anche a fare un'esultanza che sicuramente nella mia famiglia rimarrà un bellissimo ricordo doppio di quella giornata, di quella partita. Il medfieldero 26 anni fa è un start per il club che è tornato a Serie A dopo due anni. Si sembra molto più solidi questa volta. Siamo una squadra che per molti di noi è la prima esperienza in Serie A. Questa diciamo che penso sia la forza quest'anno di questo gruppo. La voglia di dimostrare il nostro valore ogni partita con avversari che sicuramente sulla carta sono più forti. Abbiamo la voglia e l'entusiasmo di una neopromossa e cercheremo di dimostrare a tutti che siamo forti, siamo una squadra che possiamo dare del filo da torcere a chiunque. Empoli è una società che ha tantissimi anni che ha questa mentalità di costruire i giocatori anche molto giovani. Sturlatz ha giocato la scuola. Può essere lineato da Viti. Quando arrivi qua ti senti in un'isola felice, in un ambiente dove ti permettono di sbagliare, ti permettono di lavorare. La telefoseria è molto attaccata ai giocatori, ti fa sentire come a casa e quindi ci sono tutte le potenzialità per creare un qualcosa di magnifico. Mi auguro che quest'anno sia l'anno anche di toglierci tutti delle soddisfazioni e di riuscire a rimanere nella massima serie. Solo 30 km separano Empoli da Florence, dove Bandinelli era nato. Sarà più che la rivalità locale per il midfielder quando gli Azzurri host Fiorentina nel Stadio Castellani a settembre. È un derby e quindi ci teniamo ancora di più a regalare una gioia ai nostri tifosi. Io vengo dal settore giovanile della Fiorentina. Sono andato a 9 anni e sono uscito a 19. Lo ricordo con piacere perché mi hanno costruito come giocatore. Sarà una partita difficilissima perché la Fiorentina è una squadra molto preparata con delle idee di gioco chiare. Si tratta di fronte verso Vlapic, si tratta di Vlapic, si tratta di Vlapic, si tratta di gol e si tratta! Sicuramente nel calcio c'è la legge degli ex, quindi sia io che Zurkowski siamo ex Fiorentina e quindi speriamo di poter regalare una gioia ai nostri tifosi magari segnando un gol. Guarda il gioco di nuovo per Zurkowski aspettando per Fiamotti per arrivare! Zurkowski!